La diatriba tra Presidente e Vicepresidente di Regione Lombardia sta assumendo dei toni francamente surreali. Come mai possibile in una giunta di una regione importante come la Lombardia, che si lavori da separati in casa, marcandosi a vicenda e addirittura con una debolezza evidente da parte del Presidente Fontana, ci si debba affidare ai vertici nazionali del centrodestra per dirimere una questione che non dovrebbe neppure esistere, anche perché un governo regionale dovrebbe occuparsi non dei problemi al proprio interno, ma dei problemi dei cittadini lombardi, qualora fosse un governo credibile e saldamente in sella. Si dimostra tutta la debolezza di una Presidente Fontana che si continua a dichiarare quasi ogni giorno anche futuro candidato da parte del centrodestra quasi a voler convincere anche se stesso, una debolezza che si sostanzia anche in un paradosso. Un Presidente che ha sempre invocato l'autonomia per la propria regione si riduce a doversi affidare al centralismo dei leader della propria coalizione centrodestra, piuttosto burrascosa in questo periodo, per dirimere una questione tutta interna alla sua giunta. Insomma, i lombardi meritano assolutamente di meglio e credo che questo apra degli spazi significativi anche per il centrosinistra, che deve scegliere al più presto il proprio candidato Presidente, allargando anche il più possibile la coalizione. Con un centrodestra di questo tipo, molto litigioso, e alle prese anche con una sorta di doppiaggio da parte di Fratelli d'Italia nei confronti della Lega, si aprono davvero prospettive inedite per la Lombardia, perché, lo ribadisco, i lombardi meritano di meglio rispetto a questa giunta di centrodestra che ormai litiga e fa ben poco per i cittadini.